La bambina la vedi con il nonno lunedì, lunedì, gli feci ciao, la mi feci. È il giorno del dolore e della disperazione e dello sgomento. A poche ore di distanza dalla tragedia di Castelfranco c'è chi è deciso di portare un mazzo di fiori in piazza Vittorio Emanuele, proprio dove era parcheggiata l'auto di Ilaria, madre di Tamara, la bimba morta in macchina dopo che era stata dimenticata per sei ore sotto il sole. Un dramma che ha toccato l'intera comunità di Terra Nuova a Brecciolini, frazione Valdarnese, in cui abitava la famiglia. Si può pensare, guarda, lo stavo dicendo, se mi dovesse avvisare a me quando l'accompagno io divento madre. Non ci sono parole, no, sarà stato nel cuore anche noi. Non posso rispondere a tante cose perché non mi sento. Non c'è mai stata una tragedia. Quello mi fa rabbia a me che i maestri, siccome non è il primo incidente che succede in questa maniera, quando arrivano ai dieci minuti della fine di l'orario che non è arrivata, chiamo a casa, è malata la bambina? C'è tanto poco. Secondo me troppo stress, troppe preoccupazioni per troppe cose. Troppe cose. Oltre al lavoro, all'asilo, portare quello lì, pagare quella cosa, pagare quell'altra. Un insieme di cose si perde la testa. La madre della bimba, Ilariana Aldini, è stata ascoltata giovedì sera a lungo dal sostituto procuratore Andrea Claudiani, titolare dell'inchiesta, che ha condotto l'interrogatorio assieme ai carabinieri, con la donna e il marito Adriano Rossi e l'avvocato Andrea Frosali. La madre della bimba avrebbe confermato di essere stata convinta di aver portato la piccola al nido. Il magistrato ha deciso di indagarla per omicidio colposo, escludendo l'abbandono di minore. Venerdì inoltre si svolgerà l'autopsia sul corpo di Tamara presso l'ospedale Valdarnese della Gruccia per capire le cause esatte della morte.